come ci siamo trovati da sale e pepe? ma perchè non siamo qui? no vai vai daniele come ci siamo trovati a sale e pepe? benissimo dove siamo ora? stiamo sul porto penso sul lungomare sul porto di pozzurro sul porto di pozzurro l'armando è andata l'armando lungomare di pozzurro guardate a freddo che non ci fai nemmeno a mangiare senza fare la creatura ha freddo ha freddo c'è la telina vai a freddo parla come hai mangiato da sale e pepe? benissimo bene ok mamma mia ha freddo siamo ok? dove siamo ora sul lungomare di pozzurro bellissimo questa è la mia barchetta guardate che barchetta che ci ha freddo bellissima questa barchetta è bellina come barchetta questa qua di chi è questa qua? quando vado a fare lì Alice sì? Armando tu quale barchetta hai? eccola qua stiamo alla barchetta di Armando guardate Grazie a tutti.